la tecnica che vi mostrerò si chiama tecnica dell'ammagliamento o del rosario con questa tecnica si possono realizzare bracciali chini e collane inserendo pezzi di catena occorre del filo pietre naturali una tronchesina una pinza piatta e una con punte arrotondate procediamo facendo una sola con il filo d'argento infiliamo una pietra e la blocchiamo con una sola rinforzata a questo punto rinforziamo anche la prima a sola in modo da bloccare la pietra e tagliamo la parte eccedente del filo infiliamo un'altra perla e blocchiamo di nuovo con una sola rinforzata rinforziamo anche l'altra sola dall'altro capo del filo e tagliamo tagliamo le parti eccedenti continuiamo così fino a raggiungere la lunghezza desiderata grazie grazie grazie